Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Il video di questa sera è un po' più teorico perché riguarda una trattazione sui transistor FET, quindi ad effetto di campo, con particolare attenzione ai JFET e accenni anche ai MOSFET. È un video che segue la stessa filosofia che avevamo visto per i BJT e quindi è un decalogo perché ha l'intenzione di raggruppare i concetti principali, condensarli in un video, anche perché se ne potrebbe parlare all'infinito di questi transistori. Ma ho deciso di creare una serie di argomenti di utilità e praticità per prendere velocemente dimestichezza con questi transistor, anche perché nei prossimi episodi vedremo delle applicazioni pratiche proprio con i JFET in ambito specialmente audio, quindi nel settore della preamplificazione. Come l'altra volta è stata selezionata una lista di parole e quindi essendo un decalogo avremo 10 parole chiave a guidare questo tipo di trattazione. E quindi, buona visione! La prima parola che ho selezionato è effetto di campo. Infatti il transistor FET, Field Effect Transistor, lavora proprio con questo principio. Qui ho schematizzato la struttura di un transistor JFET a canale N, dove riconosciamo una zona drogata di tipo P, un canale già presente di tipo N e un'altra zona P, con i tre terminali di collegamento chiamati drain gate source. Analogamente al transistor BJT potremmo assimilare il source all'emitter del transistor BJT, quindi come produttore di elettroni, il drain come abbinabile al collector del nostro transistor BJT, e il gate assimilabile alla base del nostro transistor BJT. Ma la grandissima differenza che abbiamo fra un BJT e un FET è che qui non abbiamo bisogno di iniettare della corrente nell'analogo terminale della base, perché abbiamo già presente questo canale conduttivo di materiale che attraverso la tensione di controllo del gate possiamo modulare per regolare il passaggio di corrente appunto dal source al drain. Io ho indicato il verso di percorrenza degli elettroni, poi per convenzione sappiamo che la corrente ha verso opposto, quindi viene indicata da drain a source. Con questa definizione potremmo dire che il drain è un terminale più positivo rispetto al source. Questo è il J-FET, cioè il Junction Fin Effect Transistor, in quanto il gate è elettricamente collegato alla zona P, non c'è isolamento, per cui questa giunzione PN, assimilabile a quella di un diodo, potrebbe entrare in conduzione qualora la tensione applicata al gate la riesca ad accendere. Quindi capiamo subito che il J-FET lavora in modo che questa tensione, questa giunzione sia polarizzata sempre in inversa, quindi questo diodo PN sia polarizzato in inversa. Questo fa sì che l'impedenza che viene vista dal gate è elevatissima, perché è quella di una barriera di una giunzione polarizzata in inversa, quindi praticamente si può dire che il gate vede un'altissima resistenza rispetto al resto del semiconduttore. Il MOSFET, rispetto a questa struttura, ha un gate che invece è isolato, quindi non avremo questo collegamento diretto, ma avremo uno strato di isolante, tipicamente CO2, quindi ossido di silicio, che ci permette di mantenere il gate isolato. A ricordarci questa differenza ci vengono incontro i simboli utilizzati. Nel J-FET infatti viene rappresentato il drain, il source, il gate e poi di solito abbiamo una freccia che va verso il centro ad indicare il canale N oppure uscente per il canale P e comunque però vedete che abbiamo un collegamento elettrico. Nel MOSFET invece abbiamo sempre i terminali di drain e source, ma il gate risulta essere isolato, quindi di solito viene rappresentato con questa linea che mostra appunto l'isolamento, che è un isolamento molto sottile e quindi anche molto molto delicato. Quindi cominciamo fin da subito a dire che sono dispositivi molto delicati e quindi quando si maneggiano bisogna stare attenti a non danneggiarli con la carica elettrostatica presente sul corpo. Quindi possibilmente utilizzate un braccialetto o comunque siate sicuri di non avere del potenziale pericoloso in grado da andare a rompere questo strato sottile di ossido. In figura non ho mostrato il FET di tipo a canale P, ma lo immaginiamo esattamente duale, quindi basta sostituire la P con la N e a questo punto avremo un canale conduttivo di tipo P, che è quello che viene sfruttato per la conduzione. La seconda parola chiave è enhancement depletion, che si riferisce a un processo costruttivo del transistor effetto di campo, per cui questo canale di conduzione può avere caratteristiche di conduttività diverse. Solitamente quando usiamo i MOSFET noi utilizziamo dei MOSFET enhancement, ossia per poterli accendere dobbiamo fornire una tensione fra gate e source, nel caso di MOSFET a canale N, superiore a una certa soglia e comunque positiva. E quindi se questo grafico rappresenta la tensione fra gate e source e la corrente di drain, la nostra curva del MOSFET si piazza qui, quindi una volta polarizzato con una tensione gate source superiore alla soglia, il nostro MOSFET enhancement comincia a condurre. Viceversa il fenomeno di depletion, che si può trovare sia nei MOSFET che nei JFET come tipo di trattamento, fa sì che il nostro semiconduttore sia già conduttivo per tensioni di gate e source addirittura che siano zero. Infatti un MOSFET di tipo depletion avrà una conduzione che inizia già a tensioni negative fra gate e source e avrà questa curva mostrata in rosso. Il JFET, come il MOSFET depletion, è un dispositivo che può essere solo di tipo depletion, quindi la massima tensione fra gate e source che dobbiamo applicare è zero, altrimenti, se vi ricordate, andiamo a innescare e mettere in conduzione questa giunzione che porterà alla distruzione del dispositivo. Quindi la curva del JFET si posiziona con tensioni gate source negative e la corrente di drain sale mano a mano che aumento questa tensione, fino a un massimo punto di lavoro che si ha per VGS uguale a zero. Quindi, volendo fare una caratterizzazione dei FET, possiamo dividerli nelle due classi JFET e MOSFET, la classe JFET che è solo di tipo depletion avrà il canale N e il canale P, la classe MOSFET invece potrà avere o depletion di tipo N e non di tipo P, ma non entriamo qui nel dettaglio, oppure nel caso di enhancement, che sono i dispositivi che usiamo più spesso, sia canale N che canale P. In ogni caso, questo meccanismo di enhancement e depletion non è altro quindi che è una traslazione della caratteristica corrente tensione lungo l'asse delle VGS. Quindi i costruttori vanno a definire questa struttura semiconduttore per piazzare la curva in un ben determinato punto e vedremo che questo sarà molto utile a livello di circuito. La terza parola chiave è zone di funzionamento e curve tensione corrente. Per vederle andiamo a prendere il nostro JFET e andiamo a piazzare due generatori di tensione. Un generatore di tensione lo andremo a mettere tra il gate e la massa, il source lo porteremo direttamente a massa e l'altro generatore di tensione lo andremo a mettere tra il drain e e la massa. Quindi andremo a variare le tensioni fra gate e source e drain e source e andremo a vedere cosa succede della corrente. Quindi andremo a vedere come varia la corrente all'interno di questo canale. La prima cosa che facciamo è di posizionare il gate a zero a massa e con questo gate e source a massa, quindi con questo generatore che sta dando zero volt, andiamo invece ad alzare piano piano la tensione che c'è fra il drain e il source. Mano mano che alziamo questa tensione, ad esempio da zero a dieci volt, avremo che un flusso di corrente comincia a scorrere dal drain al source e il gate non avrà nessuna influenza in questo senso. Sappiamo infatti che il canale è già formato e in questo regime di funzionamento che è chiamato lineare avremo che la corrente è proporzionale alla tensione applicata. Quindi di fatto quando la tensione fra gate e source è zero è come avere a che fare con una resistenza controllata in tensione e quindi mano mano che si alza la tensione avremo che anche la corrente si alza in modo proporzionale. Se lo vogliamo rappresentare su questo grafico dove abbiamo messo la corrente di drain e la tensione vds con una vgs uguale zero partiremo dall'origine e avremo che la corrente sale in maniera proporzionale quindi tipo resistivo rispetto all'aumento di questa tensione. Questo sarà vero fino a un certo punto oltre il quale questo fenomeno comincerà a non essere più vero cioè non avremo più un comportamento tipo resistivo ma si entrerà in una regione chiamata di saturazione o meglio di saturazione di corrente ossia alzando la vds oltre un certo livello la corrente non seguirà più secondo questo andamento ma comincerà a flettere e si porterà in una zona di quasi costanza che noi andremo a sfruttare. Questa zona è chiamata appunto zona di saturazione. Dunque applicando una vgs uguale a zero abbiamo visto che c'è un limite per la corrente id non superabile. Questo parametro è chiamato idss e viene specificato nel datasheet e rappresenta appunto la massima corrente di drain sostenibile dal jfet quando è polarizzato con vgs uguale 0 che è la massima condizione di conduzione. Ricordiamo infatti che se si aumenta troppo questa vgs verso valori positivi si rischia di portare in conduzione il nostro jfet distruggendolo. Ora invece di applicare 0 volt fra gate e source cominciamo a polarizzarlo in negativo cioè facciamo in modo che il gate sia più negativo del source quindi questo generatore di tensione ad esempio potrebbe applicare meno 1 volt meno 2 volt e così via tensioni sempre più negative. Ad esempio prendiamo una vgs meno 1 volt e facciamo l'esercizio di prima di aumentare da 0 a 10 volt la tensione del drain. Se guardiamo le curve corrispondenti ad esempio vgs meno 1 volt partendo da una vds quindi fra drain e source di 0 e alzandola vediamo che la curva ricalca l'andamento lineare che avevamo visto con la vgs uguale a 0 ma si porta più bassa e viene a flettersi trovandosi in zona di saturazione con una corrente di drain più bassa. Questo fenomeno lo possiamo spiegare perché applicando una tensione fra gate e source negativa abbiamo che la zona di depletion del canale aumenta. In termini costruttivi significa che se applica una tensione di gate negativa la zona di depletion della mia giunzione pn comincia ad aumentare e quindi il canale conduttivo che porta la corrente viene ad assottigliarsi e quindi potrà portare meno corrente. Questo fenomeno è tanto più vero quanto la tensione di gate scende negativa fino addirittura a un livello chiamato di vgs off per il quale il canale non è più conduttivo e si chiude completamente. In questa condizione avremo una chiusura del canale e il nostro jfet avrà una corrente id praticamente zero. poi vedremo in realtà che esiste una zona di sottosoglia. Comunque più il gate è negativo rispetto al source più questo canale si assottiglia e più la corrente di drain va a zero. Quindi tornando nel nostro grafico vediamo che mano mano che la vgs cale diventa più negativa il fascio di curve si abbassa andando ad abbassare la corrente di drain. Le zone di funzionamento che ci interessano sono quella di saturazione quando vogliamo utilizzare il jfet come una sorgente di corrente infatti vedete che la corrente rimane più o meno costante al variare della vds oppure la zona lineare nel quale il jfet si comporta quasi come una resistenza e riusciamo ad stabilire il valore di resistenza che è la pendenza di questa curva o meglio sarebbe l'inverso della pendenza perché qua abbiamo id diviso vds stabilendo la tensione vgs quindi quella di controllo del gate. In questo grafico quindi è rappresentata la corrente di drain rispetto alla tensione fra drain e source e usato come parametro la vgs quindi la tensione fra gate e source. Un altro grafico che viene utilizzato moltissimo e si trova nei datasheet rappresenta invece la corrente di drain nei confronti della tensione vgs quindi la tensione fra gate e source assegnato un certo valore di vds. Quindi ad esempio ci piazziamo in un certo punto di vds quindi stabiliamo ad esempio 10 volt e andiamo a prendere questi punti e li riportiamo in questa maniera di modo che la corrente di drain varia appunto con la vgs. Sappiamo che quando la vgs uguale 0 questo punto la corrente si chiama appunto idss e vediamo che la dipendenza fra corrente di drain e vgs è di tipo quadratico quindi per un aumento di una certa quantità sull'asse del gate source avremo un aumento col quadrato della corrente di drain e infatti questa zona è chiamata a comportamento quadratico quella in cui abbiamo il comportamento in saturazione dove la nostra tensione fra gate e source va a settare la corrente di drain. Quarta parola chiave impedenza di ingresso infatti questa è una delle caratteristiche del jfet che lo rendono veramente appetibile infatti se prendiamo un transistor bjt sappiamo che per accenderlo dobbiamo comunque sempre fornire una corrente di base piccola ma è sempre presente. Sul jfet invece una volta che abbiamo polarizzato il nostro gate quindi abbiamo messo della carica all'interno della zona di gate per creare il canale conduttivo questo dispositivo non assorbe più corrente quindi si può dire che in continua una volta acceso non assorbe più corrente e questa è una cosa molto utile per quello che riguarda l'impedenza di ingresso infatti questo dispositivo non assorbe praticamente corrente caratteristica molto utile nei dispositivi a bassa potenza negli strumenti va specificato che questa caratteristica è in continua perché invece se il jfet comincia ad essere pilotato in alternata quindi accensione spegnimento ovviamente ogni volta che andremo a portare carica o togliere carica ci sarà una piccola corrente ma sarà sicuramente molto molto piccola ordini di grandezza inferiore a quella necessaria per pilotare l'equivalente bjt. Facciamo una puntualizzazione per quello che riguarda la nomenclatura nei bjt quando lavoriamo in zona attiva sappiamo che la corrente di collettore è proporzionale alla corrente di base secondo il termine beta o il guadagno in corrente questa zona di funzionamento del bjt attiva corrisponde invece alla zona chiamata di saturazione del fet o meglio di corrente di saturazione nella quale la corrente di drain è proporzionale al grosso modo al quadrato della tensione di comando intesa come la differenza fra la tensione applicata fra gate e source e la soglia di conduzione del transistore effetto di campo questo termine saturazione è un po infelice perché può creare confusione e quindi uno sarebbe tentato a pensare che la saturazione del jfet corrisponde alla saturazione del bjt invece ha tutt'altro significato infatti sappiamo che nel bjt quando non è più vera questa relazione e la corrente di base non riesce a innescare una corrente di collettore secondo questo beta si entra in saturazione vale a dire che la corrente di collettore viene limitata nonostante la corrente di base aumenti per quanto riguarda i mosfet di potenza possiamo identificare le loro zone di funzionamento a seconda dell'applicazione ad esempio in un amplificatore hi fi dove il mosfet funziona da semiconduttore ci interessa la linearità e quindi nella zona di funzionamento che abbiamo chiamato saturazione cioè quella per cui programmando una certa tensione vgs di canale abbiamo una certa corrente di drain che più o meno è costante al variare di questa vds questa qui è una zona dove il dispositivo consuma molta potenza perché abbiamo una corrente di drain e nello stesso tempo una vds applicata che non è piccola quindi come avviene per i dispositivi bjt in questa zona di funzionamento il nostro mosfet è molto dissipativo viceversa se utilizzato in applicazioni switching come ad esempio dei convertitori flyback o back come abbiamo visto in altri video il dispositivo funziona con una rds on molto piccola che è quella specificata nel datasheet in questa regione di funzionamento sappiamo che la vds che si viene a localizzare ai capi del mosfet è molto piccola di modo che così il prodotto della corrente di drain al quadrato per la rds on risulta comunque piccolo e la dissipazione in potenza è comunque minimizzata nelle applicazioni switching infatti il mosfet è molto gradito perché è velocissimo come accensione e spegnimento e poi riesce a portare effettivamente correnti molto elevate attenzione comunque sempre che la rds on indicata nel datasheet si riferisce sempre a una temperatura di funzionamento del dispositivo a 25 gradi cosa che ovviamente non è realistica nelle applicazioni quindi la rds on che andrà considerata a progetto di sicuro dovrà subire un the rating che si può ottenere dalle curve comunque del datasheet la prossima parola chiave è trans conduttanza guadagno infatti nel caso del jfet l'utilizzo tipico è l'applicazione di una tensione fra gate e source e la creazione di una corrente di drain secondo una certa legge di proporzionalità che è rappresentata in questa curva tipica come sempre corrente di drain tensione fra gate e source questa è la curva che si viene a creare dunque la trans conduttanza parametro gm rappresenta la variazione di corrente rispetto a una data variazione di tensione dove per corrente la corrente di drain e tensione tensione fra gate e source quindi rispetto a questa curva se ci piazziamo in un certo punto ci interessa sapere quanto varia in proporzione questa corrente rispetto a questa tensione applicata quindi il rapporto fra le due o meglio la derivata fra le due esprime proprio la trans conduttanza che è un parametro che non è fisso e costante per ogni polarizzazione ma ovviamente dipende dal punto di funzionamento attenzione perché i datasheet forniscono gm 0 cioè questo valore misurato quando la vgs uguale 0 quindi su quest'asse qui quindi i nostri datasheet forniscono una pendenza di questa curva nel punto in cui la vgs vale 0 cioè qui ma se noi dobbiamo lavorare in un altro punto abbiamo necessità di riadattare la gm a seconda della polarizzazione che applichiamo e questo introduce la prossima parola di questo jfet che è dispersione dei parametri la dispersione dei parametri in questi dispositivi jfet è molto sentita facciamo un esempio se prendiamo i datasheet di un jfet come il 2n 54 48 e andiamo a vedere la trans conduttanza gm 0 misurata in microsiemens vedremo che il valore varia da 1500 a 5500 quindi a parità di part number posso trovare un dispositivo che si trova agli estremi della curva se andiamo a guardare il parametro idss cioè la corrente di drain quando la vgs uguale 0 e in questo caso è specificata una vds di 15 volt per il test vediamo che il minimo e 2 il massimo e 9 milliampere quindi ancora una volta un sacco di dispersione ma la cosa che lascia a bocca aperta è la vgs off cioè la tensione di gate per la quale la corrente di drain va a 0 cioè in pratica vado a spegnere il canale questo parametro di vgs off per questo jfet varia da meno 1 addirittura a meno 7 quindi nello stesso sacchetto di componenti potrei trovarmi due dispositivi che si trovano esattamente agli antipodi questo è un punto molto limitante per il jfet e complica la progettazione perché quando si va poi a fare qualche piccolo circuito nell'analisi di caso peggiore bisogna tenere in considerazione questo range ovviamente esistono delle tecniche per compensare questa grande variabilità utilizzando dei circuiti furbi nelle parole chiavi non poteva mancare la parola temperatura ossia la dipendenza dalla temperatura dei parametri di questi dispositivi in particolare per quello che riguarda la corrente di drain ha una dipendenza della temperatura che può essere diversa a seconda della polarizzazione questo grafico ad esempio mostra la dipendenza dalla radice quadrata della corrente di drain rispetto alla tensione vgs meno la soglia sappiamo che la corrente di drain dipende in modo quadratico da questo parametro quando ci troviamo in zona di saturazione e vediamo che plottando quindi la radice quadrata otteniamo delle linee rette che variano la pendenza a seconda della temperatura questo grafico si riferisce a un mosfet a canale n normalmente quando si lavora con alte correnti ci si trova a lavorare con un coefficiente di temperatura negativo ossia all'aumentare della temperatura abbiamo che la corrente di drain cala e questo è un fenomeno molto importante perché a differenza dei bjt possiamo permetterci di mettere in parallelo più transistori mosfet senza una resistenza di ballast come si chiama di equalizzazione infatti saremo sicuri che se la temperatura aumenta il dispositivo porterà meno corrente e quindi non si potrà innescare quel fenomeno che nei bjt è chiamato thermal runaway cioè un fenomeno praticamente a retroazione positiva che porta alla distruzione del dispositivo con creazioni di hotspot nei mosfet invece vedete che se andiamo ad applicare una corrente di drain di un certo livello l'incrocio che si ha con le curve di temperature di questo tipo quindi coefficienti di temperatura negativo siccome però anche la tensione di soglia vth dipende dalla temperatura questo coefficiente di temperatura negativo si può trasformare in positivo se andiamo ad abbassare di parecchio la corrente di drain infatti esiste un punto di incrocio dove addirittura abbiamo una polarizzazione di temperatura zero cioè un punto ben preciso in cui la dipendenza della temperatura dalla corrente di drain si annulla e sotto a questo punto il coefficiente di temperatura addirittura diventa positivo però siamo appunto in una zona di basse correnti di drain quindi in questa zona il coefficiente negativo di temperatura ci permette di lavorare più tranquilli rispetto ai bjt ma non dimentichiamoci che comunque la dissipazione di potenza deve essere ben gestita con dei dissipatori adeguati in grado di togliere la temperatura in eccesso per non rischiare di arrivare vicino alla temperatura di giunzione che è una temperatura raggiunta alla quale il dispositivo praticamente si distrugge altra parola chiave self bias o current source quindi generatore di corrente costante infatti con un jfet è possibile creare un generatore di corrente costante in maniera molto semplice vedete che il gate si può portare direttamente in corto circuito con il source emesso a massa il caricolo si può mettere qua sul drain e collegarlo all'alimentazione questo circuito si polarizza da solo se avessimo avuto un mosfet avremmo dovuto fornire una certa tensione di soglia per accenderlo in questo caso invece visto che siamo in depletion l'oggetto è automaticamente acceso e la corrente sarà pari alla corrente specificata idss sul datasheet cioè la corrente per la quale la vgs uguale 0 attenzione però perché questo parametro come abbiamo visto prima ha una forte dispersione per cui non è facilmente predicibile il valore preciso di corrente idss a parte questo questo tipo di schema lo si trova molto spesso presente in alcuni regolatori di corrente integrati per limitare il grado di imprecisione di questo parametro si può ricorrere al self bias quindi aggiungere una resistenza rs in serie al nostro terminale di source che andrà a produrre una caduta di tensione tale da influenzare la vgs di comando del nostro jfet quindi la corrente di drain quando scorre sul carico fa anche in modo di polarizzare il nostro circuito questo ovviamente riduce l'imprecisione dss ma riduce anche il guadagno del nostro stadio l'aver introdotto una resistenza rs ci ha permesso di diciamo così linearizzare il nostro sistema infatti se prendiamo il nostro jfet con delle curve di questo tipo che hanno la corrente di drain e la tensione vgs avremo un fascio di curve abbiamo visto che è molto affetto da dispersione quindi non sappiamo esattamente quale curva sarà ma se andiamo a impostare una resistenza rs avremo una retta di carico che ha una pendenza che è pari a meno 1 su rs quindi andando a selezionare il valore di rs in realtà riusciremo a compensare questa dispersione dei parametri andando a lavorare sul valore di resistenza e finalmente andremo a trovare il nostro punto di lavoro per cui avremo un ben definito valore di corrente di generatore altra parola chiave effetto miller e poi cascode che è una tecnica per limitarlo come in altri tipi di transistor come il bjt e il mosfet il jfet abbiamo delle capacità parassite fra gli elettrodi nel caso particolare del jfet identifichiamo la ciss che quella vista in ingresso e la crss che è quella di feedback cioè quella che dall'uscita quindi dal terminale di drain ad esempio viene riportata sul gate l'effetto miller ha come effetto di far vedere dalla porta d'ingresso questa capacità moltiplicata per il guadagno dello stadio ecco che quindi comincia a diventare molto fastidioso specialmente se i guadagni si alzano e anche le frequenze si alzano questo effetto infatti limita le caratteristiche di banda passante di un amplificatore ecco che allora una delle tecniche più semplici per combatterlo è la tecnica del cascode a lato pratico rappresentiamo lo stesso generatore di correnti di prima con la configurazione a cascode quindi il nostro transistor q1 con la resistenza rs che funge da generatore di corrente viene accompagnato da questo jfet q2 che viene messo in serie q2 al compito di mantenere il potenziale del drain di q1 costante questo viene fatto appunto con questa polarizzazione di q2 che tra l'altro come vedete è di nuovo self bias cioè non abbiamo nessun bisogno di polarizzare il gate perché essendo di un dispositivo in depletion con questa configurazione lui è già acceso mantenendo fisso il potenziale del drain avremo che il nostro generatore di corrente sarà molto più predicibile in quanto la variazione vds ai suoi capi sarà molto limitata ed inoltre l'effetto miller andrà ad abbattersi perché avremo appunto meno variabilità sulla tensione ai capi della capacità parassita e infine l'ultima parola amplificatori perché di fatto i jfet possono essere utilizzate in tantissime configurazioni qui ad esempio ho riportato due configurazioni molto utilizzate quella a source comune quindi la common source dove il nostro jfet è alimentato da un segnale in alternata qua abbiamo un piccolo condensatore di disaccoppiamento il gate tipicamente viene portato a massa con una resistenza e poi l'uscita viene prelevata qua sulla resistenza del drain qua inoltre abbiamo la resistenza di self bias rs che abbiamo visto prima e eventualmente un condensatore di bypass questo per eventualmente settare la risposta in frequenza e quindi cambiare la polarizzazione del nostro jfet a seconda della frequenza che stiamo gestendo se lo vogliamo vedere come un amplificatore e quindi esprimere il suo guadagno in tensione possiamo dire che il guadagno del nostro amplificatore è dato dal rapporto fra la tensione del drain quindi la vd diviso la vgs quindi quella che viene a essere impostata in ingresso qua dopo il condensatore di disaccoppiamento se andiamo a sostituire in questa espressione la formula di vd che possiamo dire essere uguale a meno rd per la corrente di drain questo ovviamente ai piccoli segnali infatti vedete tutte le lettere sono minuscole possiamo identificare in questa espressione il parametro id diviso vgs che ancora una volta è la nostra trans conduttanza gm cioè esprime quanto varia la corrente di drain in funzione della tensione fra gate source infatti poi il prefisso trans sta a significare che l'uscita e l'ingresso sono prelevati da terminali diversi e quindi riconosciamo la formula del guadagno come meno gm trans conduttanza per la resistenza rd questa ci ricorda esattamente la stessa formula che abbiamo visto per i bjt infatti se vi ricordate nella configurazione emettitore comune il guadagno in tensione è esattamente identico solo che al posto di rd c'era rc cioè resistenza sul collettore qui accanto ho rappresentato un'altra configurazione molto famosa che è quella del source follower che è analoga all emitter follower per il bjt in questo caso il nostro jfet viene collegato direttamente all'alimentazione abbiamo come sempre la resistenza rs di self bias del source preleveremo l'uscita out sul terminale di source e forniremo il segnale in ingresso qui tramite un condensatore di disaccoppiamento direttamente sul gate il quale a sua volta viene portato a massa quindi la tensione di uscita vo quindi questa qua vout sarà uguale alla corrente di drain che scorre sulla resistenza rs quindi alla caduta prodotta sulla resistenza rs quindi potremmo dire che vo è uguale a id corrente di drain per rs sempre ai piccoli segnali ma siccome il nostro gate è portato a massa tramite questa resistenza ricordiamoci che siamo ai piccoli segnali potremmo dire che questa tensione è uguale a vs vedete qua abbiamo proprio il potenziale vs che corrisponde proprio a vgs in quanto il gate è a zero quindi diremo che la tensione vo è direttamente proporzionale a vgs se lo guardiamo ai piccoli segnali quindi una variazione del nostro gate in positivo quindi con una tensione di gate che aumenta provoca un aumento della corrente di drain e quindi una caduta superiore su rs e anche un aumento della tensione vout bene se siete arrivati fino a questo punto del video vi faccio i miei complimenti perché era un video teorico e quindi magari anche un po pesante da seguire ma state tranquilli perché nei prossimi episodi poi metteremo in pratica questi concetti come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.